Strano, non so come mai, ma credo che si chiami tipo... Gianna? Matteo? Non lo so. Spider-Man, punto e basta. Giustamente. Mi fai fare un urlo anche da Hulk? Hulk? Hulk. Non è Hulk. Qua Hulk. Vogliamo dire qua Hulk anche lui? Eccolo, lui. Facci sentire l'urlo, Hulk. Vai Hulk. Ulf! Ulf! Ok, ne abbiamo scelti apposta. Sentite un po', senti Ulf. Adesso ti chiedo, ma non hai paura di fare questo mistiere? Credeva me. O con quello che stiamo andando là. Vi pare il supererente. Mani, spensolate le mani, cappelli. Dall'alto deve essere magico questa cosa. Dall'alto è ancora più bello. Ve lo chiediamo di nuovo su le mani, tutte, 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 tutte le mani. Grandi. Ce l'ho visto anche da Google Earth. Allora, noi dovremmo essere quasi pronti per fare la calafra. A un bambu natale in forma. Qualcosa che faccia ballare questi bambi natale. Siete pronti? Volete ballare un pochino? Immaginavo. Ragazzi, da qua su non si sente niente. Volete fare casino? Allora, siamo pronti! E noi dovremmo essere già pronti. E noi dovremmo essere ogni tanto cameras che non vollare è trabal Sopra lì, salutiamo verso Lucina Magherita! 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 Sopra lì, salutiamo! Sopra lì, salutiamo verso Lucina Magherita! 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 Sopra lì, salutiamo! Sopra lì, salutiamo verso Lucina Magherita! Sopra lì, salutiamo verso Lucina Magherita! Sopra lì, salutiamo! 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 super atletico questo super eroe veramente divertendo da qua sopra cioè si vede loro che giocano il che mi fa una paura impressionante signori quanti di voi lo farebbero questo tutti vero tutti non ci crediamo non ci crediamo ma lui nel frattempo sul palco è arrivata la super eroina del natale che si chiama super natalizia fatto un applauso per questa ragazza fantastica tu che super potere hai alberi natale luce allegria energia e non fatelo arrabbiare perché lei lancia le palline di natale e questo è il suo super potere guardate questi super eroi che si sono fermati ad una certa altezza per rilanciarsi nuovamente guardate quassù continuano a farsi vedere e intanto anche i nostri bambini sono le finestre e aspettano i loro super eroi ma quanti altri ci sono dei bambini vorrei sentire l'uno dei bambini guardate le palline di natale guardate le palline di natale guardate le palline di natale